La situazione della carenza di personale medico negli ospedali di Sciacca e Ribera, ma il problema riguarda tutte le strutture dell'isola, è tornata prepotentemente alla ribalta. I giovani medici che durante il periodo clou del covid hanno supportato il personale in servizio sono andati via per accedere alle scuole di specializzazione e adesso si parla nuovamente di emergenza personale. Il direttore sanitario dell'ospedale Fratelli Parla Piano, Salvatore Cascio, ne parla nel corso della trasmissione L'ospite. In quel periodo non c'era ancora stato il bando delle scuole di specializzazione, avevamo un gran numero di giovani medici che all'inizio erano timidi e poi sono diventati veri medici, si sono formati e a loro va un sentito ringraziamento, perché sono stati ragazzi che sono stati buttati subito in prima linea e sotto la guida dei più esperti hanno avuto e hanno acquisito un'autonomia invidiabile. E quindi questi ragazzi ci hanno fatto superare quel momento molto difficile. Purtroppo ora, come con la scuola di specializzazione, con il fatto che molti di questi ragazzi sono entrati nelle scuole di specializzazione e giustamente hanno una carriera davanti, è chiaro che c'è una sofferenza di personale notevole. Si va alla ricerca del singolo professionista con le aspe e gli ospedali che si contendono i pochi medici disponibili. Non ci sono risorse umane a disposizione, ci sono stati bandi, deserti, sia bandi di concorso che bandi per incariche e supplenze. Si chiude necessariamente la chirurgia ambulatoriale. Io penso che sia questa settimana la sofferenza. Alla fine questa coperta è sempre corta, si tira da un lato, si tira dall'altro, si tira a sciacca, si spostano a ribera, da ribera si spostano a sciacca, come se ne esce? Ah guardi, se avessi la ricetta io sicuramente non sarei geloso, la darei a tutti e se ne esce arruolando le persone. Noi proprio a livello di campagna acquisti, le racconto un episodio per capire, casualmente sono venuto a conoscenza che una ragazza si laureava in medicina. Questa ragazza già era stata contattata, viene di ridere perché siamo alla fase della guerra dei poveri, no? Il distretto l'aveva contattata per un incarico di guardia medica, l'ho contattata pure io dicendo ma perché vai in guardia medica? Vieni nel reparto, hai più possibilità di formazione, che poi la verità fai nuove esperienze e ha scelto l'ospedale. Quindi di fatto abbiamo sceppato un professionista siamo a questi livelli e quando qualcuno dice c'è un medico, ma non solo la nostra aspe, ripeto, tutte le aspe della Sicilia sono alla ricerca, tant'è che si può dire che dalla proclamazione alla laurea, non c'è soluzione di continuità a momenti, cose impensabili in altri tempi, perché c'è una ricerca spasmodica di figure sanitarie. Già parliamo di giovani medici, poi quando andiamo su figure specialistiche, ancora peggio, cioè là è proprio, è più facile vincere al totocalcio che trovare uno specialista e quando lo troviamo è chiaro che è importante, non vogliamo lasciarcelo scappare e per questo fatto è importante la domanda che ho fatto prima lei, a queste persone bisogna dargli l'opportunità e la possibilità non di un lavoro di sei mesi, ma dire guarda facciamo i concorsi, hai prospettive, grazie. 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 Grazie.